Benvenuti a questo video tutorial dedicato ai Redirect HTTP della famiglia 3XX. In questa lezione, esploreremo i codici di stato HTTP che iniziano con il numero 3, utilizzati per reindirizzare il client a un'altra risorsa. Vedremo cosa significano questi codici e come vengono utilizzati nei protocolli di comunicazione web. Panoramica dei Redirect 3XX I codici di stato della famiglia 3XX indicano al client che la risorsa richiesta è stata spostata o si trova in un'altra posizione. Questi codici vengono utilizzati per indirizzare il client verso la nuova posizione della risorsa richiesta. Esempi pratici Per comprendere meglio l'utilizzo dei Redirect, esaminiamo alcuni esempi pratici. Un utente digita un URL obsoleto di una pagina web e riceve una risposta a 301 moved permanente con l'URL aggiornato della pagina. Un'applicazione web invia una richiesta post e riceve una risposta a 307 temporari Redirect con l'URL temporaneo della risorsa. Codici di stato più comuni Esaminiamo ora alcuni dei codici di stato di Redirect 3XX più comuni. 301 moved permanently Questo codice di stato indica che la risorsa richiesta è stata permanentemente spostata in un'altra posizione. Il client dovrebbe aggiornare i suoi segnalibri e memorizzare la nuova posizione. 302 found O 303 seeader Questo codice di stato indica che la risorsa richiesta è temporaneamente disponibile in un'altra posizione. Il client dovrebbe continuare a utilizzare l'URL originale per le richieste future. 307 temporari Redirect Questo codice di stato è simile al 302, ma specifica esplicitamente che il Redirect è temporaneo. Il client dovrebbe utilizzare l'URL originale per le richieste future. Utilizzo pratico dei Redirect I Redirect sono utilizzati in molte situazioni pratiche. Ad esempio, quando un sito web viene rinnovato e le URL delle pagine cambiano, è comune utilizzare Redirect permanenti per garantire che i visitatori continuino a trovare le risorse correttamente. Durante la gestione di errori o manutenzione del sito, è possibile utilizzare Redirect temporanei per indirizzare temporaneamente i visitatori verso una pagina di manutenzione o un'altra risorsa. Conclusione In conclusione, i Redirect HTTP della famiglia 3XX sono utilizzati per indirizzare il client a una nuova posizione della risorsa richiesta. Comprendere il significato di questi codici è importante per gestire correttamente le modifiche e le operazioni di manutenzione sui siti web. Grazie per aver seguito questo video tutorial sui Redirect HTTP della famiglia 3XX. Se avete domande o commenti, non esitate a lasciarli nella sezione dei commenti qui sotto. A presto! Grazie a tutti!